Siamo tornati a Radio Design, io sono Nicola Palumbo, qui docente di web marketing, oggi con me, in studio, finalmente dopo l'esperienza di weekend, Matteo Boila. Ciao Matteo. Buongiorno, salve. Allora, Matteo perché è qui? Perché fa cose fighe, giusto Matteo? Beh, speriamo, sì. Allora, Matteo, presentati un attimo, chi sei e cosa fai nella vita? Allora, io faccio animazioni stupide in internet. Ha detto così? Così, sono abbastanza male, da qualche anno lavoro con Sio, di Scottex, che è un ragazzo che ha questo canale abbastanza famoso, che fa animazioni simpatiche, e niente. Così è riduttivo? No, è riduttivo, in realtà fa tantissime cose, è piaciuto lui, è un solitore a Simone, e niente, ci siamo trovati, io avevo questo canale d'animazione su YouTube, che sto portando avanti molto lentamente, perché purtroppo è molto complesso. E ti ha causato anche problemi fisici? Sì, ed emotivi soprattutto. Assolutamente, anche emotivi. E niente, poi adesso sto facendo altri progetti esterni a questa cosa, e principalmente faccio animazioni, però ho studiato anche come ci si muove nel web, ho fatto contatti, insomma, è stata una bella esperienza, anche se appunto è abbastanza pesante. Da quanti anni è che smanetti davanti al computer? Allora, io da quando avevo, nel 2008 ho iniziato quella prima esperienza su YouTube, all'epoca. Con la crisi, benissimo. Con la crisi, sì, ma io ero abbastanza piccolo, non capire, io adesso ce n'ho 26 di anni, per esempio, dieci anni fa. Le donne che sono all'ascolto possono subito candidarsi. Con video stupidi, proprio cosa da ragazzini. E poi andando avanti, l'ho ripreso più avanti con... Ah, come televisione, cioè guardavo video su YouTube, e ho detto, ah, figata, fammici provare. Ho provato a fare qualcosa, ho provato a fare animazioni perché era il compromesso tra video editing, che non avevo voglia di fare, e il disegno, che poi in realtà sono un disegnatore, mi sono dimenticato di dire che sono un disegnatore. Ah, sei un disegnatore, quindi... Sì, 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 poi ho spostato questa cosa su animazioni, fai da te, quindi... Bello, bello. Allora, raccontaci un po', dicevi, collaborazione con un po' di gente, dacci un po' di nome, hai detto Scottex, poi? Sì, e poi no, niente, in realtà sono pochi, però ho collaborato con quello sul server, con gli otobi, sul mio canale c'è qualcosa, però diciamo che i contatti ci sono tantissimi, ho lavorato con doppiatori simpaticissimi, c'è Gio Pizzi, Giovanni, che è di Roma, ah, scusa, è di Milano, studia a Roma, e poi tantissimi altri, tipo Gianandrea, Chiara, degli ODS, che hanno studiato a Torino e lavorano con la Rai, insomma, hanno doppiato un sacco di videogiochi, insomma, tante cose. Cosa è figlio? E adesso altri nomi, sinceramente, non mi vengono, però anche qua, gente di Perugia, ragazzi simpatici. Io i doppiatori ne conosco tanti perché vengono fuori dal teatro, no? C'è un'impostazione teatrale, però comunque devono fare qualcosa, quindi vado là, senti, ti andrebbe di fare gratis questa cosa? E così, così vengo fuori. Sì, sì, però ho provato pure a dare qualcosina negli ultimi video, una ricompensina. Poi c'è anche i pari, le quali di Perugia, di Perugia, di Perugia, e Livia, la sua ragazza, che è anche la doppiatrice, e via così, insomma. Poi la cosa simpatica è che io chiedo un audio che dura 3-4 secondi, 5 secondi, cioè, alla fine non è che gli importo tanto tempo e la cosa viene, insomma, la gente è anche ingogliata a partecipare. Beh, figo. Allora, come ho conosciuto Matteo, l'ho visto all'ultimo incontro di Officine Fratti, e quindi ho visto lui e ho detto, ma cazzo, fa delle cose stupende, deve subito venire qui in radio perché... Poi hai proposto anche un'idea, no? Ce la puoi raccontare. Qual è la tua idea nel cassetto che hai lanciato anche lì all'Officine? Sì, allora, l'idea è praticamente sarebbe quella di fare delle lezioni, ma quella è una cosa personale, diciamo, portare a questo mondo e spiegare come funziona, essenzialmente, anche se non sono proprio il massimo esperto, però insomma ne so qualcosa, perché, ripeto, dal 2008 che ci sto sopra. Certo. E anche se ormai ci lavoro da 5-6 anni, più o meno. E la cosa che vorrei fare io, mi piacerebbe tantissimo, è creare un festival del web, anche se detta così suona male, diciamo festival dei creator, dove appunto chiamo colleghi, amici, per creare qualcosa di mai visto, insomma. Perché esistono queste realtà nelle fiere, ma sono molto commerciali, non c'è la parte... Pura. Pura. Oppure ho visto il contrario, ad esempio, adesso ci sta la notte dei ricercatori paperugia, hanno chiamato anche persone che magari sono sul web e hanno una certa professionalità, però è un singolo, io vorrei fare una cosa carina, con teatri, spettacoli teatrali, ad esempio, ci sono questi miei amici, c'è Giovanni appunto, che sta portando un... Cognome, Giovanni? Giovanni Pizzigoni. Pizzigoni. Salutiamo Pizzigoni, con questo cognome fighissimo. Che lui è uno spettacolo teatrale, viene da YouTube, fa il doppiatore, simpaticissimo, Gio Pizzi si chiama, e fa il soldato, ha fatto soldato, ho visto in tutta Italia, quindi magari anche portare in un evento culturale sarebbe interessante, anche perché per esperienza dico che quando presenti... Ah, sì, sai, io lavoro su YouTube, faccio queste cose qua, la gente non è la stessa cosa, faccio ingegnere, faccio dottore, no, non è la stessa cosa. In realtà è un lavorone gigantesco, ci fai le nottate, giusto? Sì, ma controvoia. Controvoia, ci fai diverse nottate, però è bello, è molto tica come idea. Tra l'altro io ci sarò alla notte dei ricercatori con Radiofonica, la radio universitaria, magari vieni anche lì e ci becchiamo anche là, domani sera, domani e dopo domani. No, dopo domani. Ah, ok. Però ci sarò anche domani, se vieni anche domani... Non credo che devo lavorare. Vabbè, allora niente, mi dispiace, io ci ho provato. Bene, allora è molto interessante. Dacci allora dei link di riferimento, così la gente va a vedere le cose che fai, o combini. Allora, con molta calma, il mio nickname purtroppo è... Dillo piano, dillo piano. Sì, è Matthew Catcap, Matthew scritto M-A-T-T-H-E-W-W-C-A-T-C-A-P. Forse dobbiamo cambiarlo questo, che c'è quest'amico mio che ormai lo conosco da anni, che mi chiama sempre Matthew Matt Matt. No, no, no. E là trovate cose abbastanza... Cioè io carico un video l'anno perché sono cose, sono progetti mostruosi. Adesso sto lavorando a un video di Detective Conan, una parodia simpaticissima, con un sacco di doppiettori, tra l'altro dieci persone. C'è anche Loren di Cartoni Morti, che sicuramente qualcuno conosce. Altri link di riferimento, c'è la pagina Facebook con lo stesso nome, pagina Instagram con lo stesso nome, e poi i video di Sio sul suo canale Scottax. Adesso sono in ferie per lavorare a questo altro progetto, ma alla fine dei video che ho fatto c'è la mia faccina, quindi se cliccate l'ancio, ma ci sono tutti i riferimenti, tutti i link utili. Più di questo non so... Beh, o più di questo. Matt, you the... No. L'ho detto apposta. Certo che però l'hai fatto veramente difficile, ma ci hai pensato a cambiarlo magari? Ormai troppo tardi. Eh sì, lo vorrei fare, però il discorso è che... In tutti i video c'è ormai quel nome. In tutti i video c'è quel link, e poi a gente che conosco si è appassionata anche a... A questa cosa cacofonica. Eh, lo so, ma infatti ti ripeto, io farò un libro quando sarò vecchio, chiamatemi Matt, una cosa che chiamo a Matteo, una cosa che già è una cosa stupida. Poi ce lo mi chiamo, anziché lui, ce lo mi chiamo Matt. Esatto. Così funziona, ti rank. Sì, sì, sì. Faccio il tormentone. Bene, è stato fighissimo, speriamo di riaverti qui, magari facendo qualche puntata ogni tanto parlando di cose fighe che tu conosci. Ah, io sono volentieri. Mi è venuto ora l'idea, top. Va bene, va bene. Va bene? Ok, allora grazie mille ragazzi e alla prossima intervista. Adesso qui siamo one man show, devo chiudere tutto io, ho capito, è diretto.